io adoro di qualche anno fa oh mio dio ma io non so cosa dire ciao a tutti siamo Ricky e Theo NDC allora siamo qui per fare questa reaction della nostra regina Anita è un video abbastanza vecchio anche la canzone non l'abbiamo mai sentita e non l'abbiamo mai visto il video quindi faremo per la prima volta la reaction qui insieme a voi e niente se non siete ancora iscritti al nostro canale subscribe iscrivetevi se volete seguirci su Instagram Teo Yon sei Bored Richard e iniziamo subito con la reaction oddio sembra tipo un fumetto Anita almeno se faccio stare la nostra finestra ragazzi diteci la pronuncia ma come vestita oddio adoro la baianita non l'avevi vestita così sembra tipo un cartone animato io adoro ma è semigna loca di qualche anno fa non so perché ma l'ambiente mi piacciono sempre tutte queste mosse la carica del 101 il cartone non so perché bellissimo questo stile con le stanze tutte di un colore anche la canzone mi piace un ma adoro no ma quanti outfit cambia commentate con il vostro preferito è un sacco divertente come video adoro io sto andando questo video lei con tutti questi vestiti tutti questi accessori oddio c'è bag in tv amo qui cani veramente un sacco questo pezzo mi piace un sacco no lei io adoro troppo con quella gomma così non sto capendo anche la canzone ecco bang oh mio dio no ma io non so cosa dire oddio ma non è anitta tipo identico a bang no davvero ok ti rimane in testa due anitta no ragazzi oddio no non è anitta oddio non ci avevo fatto caso cos'ho appena visto wow cioè davvero non so allora il video vi giuro non so perché mi ricordo la carica del 101 non ne è anitta veramente cioè dietro non so ok allora il video è finito io adoro un sacco lei con tutti questi vestiti tutti questi accessori tutto super molto colorato tra l'altro mi piace anche un sacco la canzone è molto orecchiabile ti rimane in testa è un bel ritmo quindi approvata ragazzi non potevano scegliere il titolo più azzeccato essa migna è locca che vuol dire questa ragazza è pazza questa è pazza davvero cioè all'inizio sembrava un video molto allegro anche la canzone è molto orecchiabile mi è piaciuto un sacco questo stile fumetto ma già anitta cambiava outfit troppo spesso ed erano troppo assurdi c'era qualcosa che non andava ma poi nessun successo è di ogni non facevo in tempo a commentare una cosa che ne succedeva già un'altra e poi un'altra ancora e poi un'altra ancora e poi un'altra ancora cioè davvero essa migna è locca niente se non siete ancora iscritti al nostro canale tra l'altro mi raccomando fateci sapere se vi piace se vi è piaciuta la nostra reaction nel caso lasciate un pollice in su se non siete ancora iscritti al nostro canale subscribe iscrivetevi e se volete seguirci su instagram I'm Teo Yons e Bari The Richard e ci vediamo con un prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti